ma non sei stanco di sentir parlare di turismo esperienziale della sua digitalizzazione e con nessuno che ti dica come fare a realizzarlo io sono qui per aiutarti a scoprirlo e non voglio dirti come fare voglio solo mostrarti come lo abbiamo fatto noi nella nostra struttura recettiva senza l'uso della solita e banale app ma creando uno strumento utile a tutti io ho un piccolo noleggio di biciclette elettriche avevo la necessità di accompagnare i miei ospiti a scoprire il mondo attorno alla mia struttura recettiva non volevo perdere la mia preziosa immagine aziendale e volevo che loro avessero lo strumento che oggi per il turista mancava uno strumento che in pochi clic in pochi passaggi gli permettesse di partire raggiungendo le informazioni che stava cercando secondo il flusso che è abituato a seguire semplicemente cliccando e partendo un po come avere una propria guida personale senza però dover essere vincolato a una guida fisica ai suoi tempi e alle sue disponibilità valorizzando la sola tua immagine aziendale proteggendo le tue informazioni turistiche ma soprattutto valorizzando i profitti derivanti dai tuoi partner commerciali sul territorio iscriviti al link che trovi in descrizione ti mostreremo come noi abbiamo fatto e ti mostreremo quello che tu potresti fare per la tua struttura recettiva ti aspetto